Mercoledì 19, giovedì 20 giugno, si svolgerà il fitto programma di eventi organizzato da ITEG che ha il merito di aver portato a Lecce l'alta formazione sul turismo enogastronomico e l'hospitality. Nella sede del Circolo Cittadino si ritroveranno esperti, professionisti e aziende della recettività. Abbiamo organizzato due giorni veramente intensi, con moltissime attività che vanno dalla parte dei talk, conferenze, alla formazione. Laboratori e tutte le attività di formazione per l'hospitality TEG. Abbiamo relatori italiani, ovviamente internazionali, relatori pugliesi. Abbiamo dato evidenza anche a tutti quei professionisti che vivono nei territori e che conoscono i territori ovviamente del Salento, della Puglia e tutto quello che oggi viene considerato eccellenza e patrimonio immateriale. Quanto è importante rendere più professionale l'accoglienza nel nostro territorio? È fondamentale. Però, come dico sempre, la professionalità non deve andare a superare, a coprire, quello che è l'aspetto emozionale di tutto quello che succede in questo comparto. Perché essere troppo professionali significa diventare troppo tecnici, non va bene. Bisogna mantenere la nostra emozione, la nostra parte passionale, che è la parte più importante. Parlo di Italia, ovviamente, non di Puglia solamente, che ci distingue e che ci permette di far arrivare veramente milioni di viaggiatori per conoscere quello che noi siamo. E noi siamo anche una parte importante di emozioni. Ma con professionalità, cioè specializzati nel comparto, nel comparto del turismo non gastronomico e dell'hospitality.